È un bilancio in chiaro scuro con molte incognite sui prossimi trimestri quello che emerge dai dati della Camera di Commercio sulla base dei dati pubblicati dall'Istat che riguarda le esportazioni in provincia di Arezzo. Nel 2021 si è raggiunto quota 10 miliardi e 341 milioni di euro, una diminuzione del 6,8% rispetto al 2020. I dati al 31 dicembre 2021 evidenziano una contrazione per alcuni settori, afferma il presidente Massimo Guasconi, che avevano avuto una crescita sostenuta durante l'emergenza pandemica come i metalli preziosi e significativi miglioramenti in altri settori ad iniziare dalla gioielleria. Pesa però ovviamente, dal punto di vista economico, la tragedia di una guerra nel cuore dell'Europa e quindi molto probabilmente la crisi energetica e le difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime, assieme agli imbarghi e alle sanzioni internazionali, determineranno un significativo rallentamento del commercio internazionale. I principali mercati di riferimento comunque della gioielleria italiana e quindi a retina rimangono in crescita. Gli Emirati Arabi fanno registrare un più 117%, gli Stati Uniti più 80%, la Turchia più 103%, così come è in crescita anche il mercato di Hong Kong con un più 30%. È il comparto della moda, afferma il segretario dell'ente Marco Randellini, quello che appare invece più in difficoltà tra le specializzazioni manifatturiere della nostra provincia, con una variazione del meno 35,8% rispetto al 2020 e del 29,8% rispetto al 2019. Si è passati infatti da un valore assoluto di 893 milioni di euro nel 2020 a 573 dello scorso anno.